Gente di Procida 2, il podcast di Procida, capitale italiana della cultura 2022. Rivivi i momenti più belli di un'annata magica e fatti sorprendere da quest'isola segreta. Gente di Procida 2 è un podcast originale Rai Radio. Ascoltalo su raiplaysound.it Dopo la prima serie non puoi mancare la seconda, ma tutte e due è meglio.